Martedì c'è stato il via ufficiale dei lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di Gravellona Toce. 365 giorni previsti per l'ultimazione dell'opera, se non dovessero esserci proroghe straordinarie. Il primo passo con le fondamenta, dopodiché sarà posizionato un abbasamento di cemento armato su cui verrà appoggiata la struttura prefabbricata in legno ad alta efficienza energetica. La spesa complessiva è pari a 1,7 milioni di euro, 900 mila finanziati dalla fondazione Cariplo, circa 700 mila con fondi comunali e 100 mila grazie al contributo dell'associazione Buon Pastore che nella nuova struttura avrà la propria sede. Perché oltre all'asilo nido nel prefabbricato in legno ci sarà anche una sala polifunzionale a disposizione della comunità gravelonese. Oggi intanto sono state aperte le buste con le offerte economiche per la direzione lavori al cantiere del Palasport. Se non ci saranno anomalie nel giro di qualche giorno ci sarà la nomina ufficiale del direttore lavori con i lavori stessi che dovrebbero riprendere intorno al 10 di luglio. Si registra ottimismo anche perché le verifiche amministrative e tecniche hanno dato tutti dei riscontri positivi senza nessun intoppo.